E allora è arrivato il piatto forte, è arrivato il piatto forte, la nostra barilla di macarrona! E non so, e non so, e allora andiamo! Buon appetito! Buon appetito! Buon appetito! Buon appetito! Buon appetito! Sì! Buon appetito! Siete l'anno passato e io ho voluto fare l'inno per il nostro gruppo, mi sono titolato Amarillo. 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 Grazie.